Ciao, benvenuta e benvenuto a questo mio nuovo video sul mondo delle api. Questa è la seconda parte del video, le 10 regole d'oro. Settimana scorsa avevamo parlato delle prime 5, questa settimana parleremo delle successive 5. Per chi non avesse visto il precedente video, dobbiamo ripetere l'antefatto che abbiamo fatto l'altra volta. Quindi l'antefatto in cosa consiste? Consiste nel fatto che dobbiamo fare la considerazione che la valutazione di queste famiglie le dobbiamo fare nel momento in cui la famiglia sia sviluppata già da qualche mese ed è in piena azione produttiva, quindi le api stanno bottinando al massimo della loro capacità. Ed è qui che entra in gioco la valutazione delle famiglie perché tutti i parametri che vi sto fornendo sono rapportati proprio a questa considerazione. Quindi abbiamo visto i primi 5 punti, parliamo del sesto che è la presenza della regina all'interno della famiglia. La regina è sostanziale come sappiamo per il progredire e per tutta quanta la famiglia e la regina ci deve essere. Prima di tutto una delle cose importanti da fare è di marcare la regina. La regina va colorata perché quando si fanno fare l'ispezione delle famiglie, soprattutto in questo periodo, è molto difficile individuare perché la popolazione delle api è molto numerosa e di conseguenza scorgere la regina all'interno dell'arnia è veramente complesso e non sempre si riesce ad individuare in maniera precisa. Quindi una razione da fare è marcarla. Ci sono dei colori che rappresentano l'anno di nascita della regina che poi magari vi metterò in descrizione, però diciamo che dobbiamo cercare di individuarla. Se non la si individua bisogna valutare altri aspetti. Cioè ci deve essere covata fresca all'interno dei telai e la presenza di uova o larve piccole. Meglio è se riusciamo a individuare le uova anche se sono difficilmente distinguibili perché sono sul fondo della cella e a volte se non si mettono i telai esattamente al sole e orientati in maniera precisa si distinguono difficilmente. Però è importante cercare di verificare la loro presenza delle uova anche perché l'uovo deve essere sul fondo della cella, deve essere in piedi oppure sdraiato, ma la cosa importante è che ci sia un solo uovo. Questo perché la presenza di più uova all'interno della cella potrebbe essere un altro indicatore. Il settimo punto è la presenza di fuchi. I fuchi sappiamo che sono i maschi dell'ape che non sono sempre presenti all'interno di una famiglia, però in questo periodo in cui lo andremo a osservare i fuchi ci devono essere sicuramente perché comunque il periodo produttivo viene a valle spesso del periodo di sciamatura quando cioè la famiglia cerca di dividersi e in quel periodo la famiglia produce i fuchi che servono proprio alla riproduzione della specie. quindi i fuchi ci devono essere. I fuchi sono facilmente distinguibili perché hanno una dimensione più grande di quella dell'ape e sono più piccoli però della regina e le loro celle sono facilmente distinguibili perché sono più grandi di quelle di un'ape femmina e devono essere presenti nel periodo estivo quindi, scusate, dalla primavera fino alla fine della stagione. Dopodiché i fuchi devono sparire dall'armia. Se noi individiamo la presenza di fuchi nei periodi fuori da questi che ho indicato cioè quindi nei periodi invernali, autunnali avanzati questo potrebbe essere un altro segnale importante da appuntarsi perché potrebbe essere un sintomo di anomalia della famiglia stessa. L'ottavo punto è l'osservazione sui telai di la presenza di celle reali. Quando sui telai che andiamo a ispezionare osserviamo la presenza di celle reali e vi metterò delle immagini ed in più notiamo anche che all'interno dei telai c'è anche grande presenza di celle da fuco vuol dire che la famiglia è in febbre sciamatoria e quindi è una famiglia che deve andare sotto osservazione. Vedremo poi in un altro video quali sono le azioni che devono essere fatte per evitare che la famiglia sciami e contenere la febbre sciamatoria. In questo momento però la cosa importante è a notarsi il fatto di aver individuato queste celle reali e solitamente queste appaiono nel periodo di sciamatura che è sempre post risveglio primaverile quando c'è l'inizio della produzione attorno a aprile-maggio però questo può variare a seconda delle latitudini perché ovviamente qua in questa zona io la febbre sciamatoria normalmente la noto attorno a aprile-maggio però in altre latitudini dove la stagione parte prima la febbre sciamatoria potrebbe iniziare prima. Fuori da questi periodi in cui c'è la febbre sciamatoria se noi troviamo invece celle reali è sintomo che c'è un problema all'interno della cassa perché ovviamente o la regina è deceduta oppure la regina non è più produttiva e la famiglia cerca comunque di recuperare. Il nonno punto da osservare è invece la condizione dei favi. I favi sono come sapete i telai all'interno dei quali le famiglie stipano sia il miele, polline, la covata e comunque è la loro casa diciamo. I favi devono essere in buone condizioni. Normalmente si inserisce un telaio con un foglio cereo quindi con un accenno delle celle le ceraiole lo costruiscono e quando hanno finito di costruire un nuovo telaino lo vediamo che è di un bel color cera chiaro. Mano a mano che questo viene utilizzato dalla famiglia nel corso del tempo all'interno di queste celle si sviluppano le larve le larve lasciano dei resti nel momento in cui sfarfallano e di conseguenza la condizione dei favi e delle celle decade con il tempo. Allora, normalmente un favo può essere utilizzato anche se è scuro ma deve essere trasparente quindi lo poniamo di fronte al sole e se noi vediamo attraverso che non è tutto scuro il favo può ancora essere utilizzato ma quando vediamo che è molto scuro molto utilizzato a questo punto bisogna toglierlo anche perché potrebbero innescarsi delle malattie perché comunque è un accumulo di sporcizia che c'è all'interno dell'arnia e quindi che cosa si fa? Bisogna ovviamente togliere però se questo è occupato da covata o percolata ovviamente non si può togliere direttamente io come mi comporto? Nel momento in cui noto questa situazione identifico qual è il terraio e lo marco e poi dopodiché che cosa faccio? comincio a spostarlo verso l'esterno a prescindere che ci sia la covata o percolata a volte lo metto proprio sui bordi del nido oltre anche le scorte questo perché comunque sia la covata o percolata quindi matura lo faccio solo in quei casi ovviamente non se c'è covata fresca nel momento in cui vedo che la covata è completamente sorfallata prima che cominciano a popolarlo con del nettare lo prendo, lo rimuovo e lo sostituisco lo sostituisco o con un foglio cereo nuovo da costruire o se decido che invece la famiglia ha bisogno di spazio per la covata prendo un foglio già costruito e glielo fornisco e lo metto a fianco alla covata il decimo punto è il punto più critico e più delicato di tutti che riguarda le patologie io purtroppo non sono né uno zoologo né tantomeno un etomologo sono un apicoltorobbista e di conseguenza non prendete le mie parole come manuale operativo anzi, tutt'altro e infatti queste parole che vi dirò servono per fare una mia valutazione di quello che possono essere gli indicatori che mi devono far scattare quel campanello d'allarme in modo tale che io poi possa andare a chiedere aiuto a un veterinario o presso la mia associazione o presso magari un apicoltore più esperto io di solito il primo passo che faccio faccio una telefonata al mio mentore e chiedo guarda ho osservato questa cosa ma che dici? cosa devo fare secondo te? e magari mi risolve il problema mi dice no guarda è così quali sono le osservazioni che faccio io quando osservo una famiglia? prima di tutto è l'osservazione dall'esterno dalle casse io passo davanti e guardo il volo quando c'è nelle ore calde di bottinatura e da lì le raffronto quella è più forte quella è meno forte quella sta bene si vede perché c'è tanto volo e via così poi dopo di che le apro le apro le casse devono avere api reattive possono essere mansuete o possono essere meno mansuete però comunque deve esserci buona mobilità valuto se la famiglia sta piangendo la famiglia sta piangendo è quando spesso hanno perso la regina e di conseguenza sono molto nervose ventilano molto fanno molto rumore e le api sono orientate con il posteriore verso l'alto dopodiché valuto anche quando l'ho aperto l'odore dell'arnia perché l'arnia ha un suo odore purtroppo in video non si può descrivere però deve sapere l'odore deve sapere di miele e cera non ci devono essere cattivi odori ed è molto piacevole annusarla e pare anche che sia benefica adesso cattivi odori sono un cattivo sintomo muffe oppure patologie anche gravi quindi questo è un altro grande indicatore un'altra osservazione che faccio è guardare il fondo della cassa e anche osservo anche i telai aree depresse cioè celle depresse all'interno della covata o covata non compatta sono un cattivo sintomo che potrebbe essere potrebbe avere due indicatori o presenza di varroa oppure cavata calcificata quando c'è cavata calcificata spesso e volentieri si trovano anche delle larve all'interno delle celle secche diciamo e fuori dal portichetto o fuori dall'arnia anche i piccoli cadaveri di queste celle che vengono rimosse dai telai e portate fuori dalle pulitrici quindi questo è un altro indicatore importante valuto anche se l'arnia è pulita o sporca l'arnia sporca potrebbe essere un indice di qualche infezione qualche virus o qualche problema intestinale delle api ed anche le condizioni e la produzione della propoli perché una famiglia che produce una buona quantità di propoli che quindi sterilizza bene la cassa è anche una famiglia più forte che si riesce a difendere meglio poi un'altra cosa importante è anche la valutazione dei cassettini i cassettini è anche quella una valutazione che non disturba assolutamente dalla valutazione dei cassettini si può capire se la famiglia sta consumando delle scorte perché lasciano sul vassoio dei residui di cera oppure possiamo anche identificare il posizionamento perfetto della covatta che sta sfarfallando perché l'ape nel momento in cui esce rompendo l'opercolo l'opercolo cade e cade nel vassoio quindi possiamo anche da lì andare a intercettare dove è la covata e ultimo punto è la valutazione della varroa però sulla valutazione della varroa farò un video specifico dove vi dirò quali sono i trattamenti che io eseguo all'interno dell'anno per gestire questa piaga questa piaga che ci affligge purtroppo che è la piaga dell'apicoltore una delle maggiori va bene io ho concluso ho concluso spero di esservi stato utile ovviamente ovviamente se avete dei dubbi mi potete scrivere nei commenti e io cercherò di rispondere per quello che riesco per quello che so un saluto ciao